Bosco di castagni 11 maggio 2012 fino a due minuti fa avevo trovato un marzuolo e un bel rosso per la disperazione per un bel fungo dai stavo scendendo poi vedo da lontano quegli affari la mi avvicino sono due gemellini rossi sono due giovani bolletius spinophilus ma non avevo visto questo sono interrati sono a livello gambo e qui non avevo visto quello qua ce n'è un altro guarda un bocciotto lì ce n'è due ventati asciutti hanno preso vento perché sono proprio nel punto più esposto della costa clamoroso alcibali 12 maggio 2012 ci vuole uno scatto qua ce n'è un altro guarda 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 il paese dei balocchi abbiamo trovato guarda 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 guard